Una volta ottenuta la Clessidra, ho subito riscritto la storia e riscattato l'onore dell'Inquei. Ma poi ho pensato a Bihan e alla sua vita consumata dal male. Prima del clan, dovevo salvare mio fratello. Con la Clessidra sono tornato quindi alla nostra infanzia e ho studiato ogni istante della vita di Bihan per capire perché. Perché avesse ceduto alla corruzione di Sektor. Perché gioisse del potere malvagio conferitogli da Quan Chi. Quando tutto mi è stato chiaro, ho riplasmato le sabbie del tempo. Ho cambiato la vita di Bihan e liberato il suo cuore. Ora siamo alleati, non rivali. Insieme guidiamo alla pari il Lin Kuei. A difesa del Regno della Terra.